...eppure a nemici c'era ancora a sangue... C'era praticamente il torneo fra le varie compagnie, cos'era? Sì, la compagnia... Ovviamente la compagnia... era inutile dirlo, dovrà vincere... per vari motivi, la compagnia non può mai perdere, quindi... Quella comandata da lei, da te poi... ...la seconda compagnia... In relazione all'evento sportivo che si terrà... Questa è una boccia, no? Non è più cattiva? No, anche perché è arrabbiata, ma non urlava mai... Cioè tu dovevi stare zitto... In relazione all'evento sportivo... Ma ho una certa conoscenza... ...che si terrà il 22 e il 23 prossimo 21... BV cosa vuol dire? La seconda compagnia è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista... L'unico risultato ammissibile è la vittoria schiacciante... In caso contrario... Dai, non posso aver scritto lo stesso... Sì, sì... No, questa è la caccia d'acqua... In caso contrario... L'accompagnia dovrà aspettarsi... Una drastica riduzione della libertà personale... Firmato... 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 Per la cronaca abbiamo vinto, eh! Grazie! Grazie! Grazie!